Allora, vogliamo continuare questo combattimento? Beh, ecco, io credo, mio Cesare, che il combattimento sia finito. Vediamo, qual è la prossima fatica? Ah, sì, sì. Dovete attraversare questo baratro camminando su quel filo che è praticamente invisibile. Infatti non si vede. Noi dobbiamo passare su quel filo, eh? Perché non passiamo semplicemente da sotto? C'è un fiumiciatolo, ma l'aspetto tranquillo. Sì, ma vedete, quel fiumiciatolo tranquillo è pieno di coccodrilli. Eh? E per giunta si tratta di coccodrilli sacri che sono stati offerti a Cesare dal capo di stato egiziano, la regina Cleopatra. Sono bestie molto feroci, voraci all'estremo. Ah, ma non mi piacciono i coccodrilli. Le ho assaggiate una volta, sono, sono stoppacciosi. Vieni, Asterix. Vieni, Asterix. Bene, tanto peggio, tuffiamoci. Bisogna andare. Tu vieni. Ah, vai pure. Ti seguo. Abbiamo! 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 No, 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 no. No, 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 no.